Vai, ciao a tutti del Salvatore Marino, benvenuti in questa puntata di vere informazioni su TRSP una vera informazione adesso ampliata ad un vero talent, new talent show festival il nuovo talent show che stiamo facendo con l'amica bellissima qui, che vedete Priscilla Tigre fai un po', Priscilla Tigre Priscilla Tigre adesso è la mia co-conduttrice di questo talent show tu sì che vali, tra parentesi TRSP, quindi tu sì che vali, la versione in italiano di tu sì che vales quindi, cara Maria, tu sì che vali, adesso sarà lei, ti passo la palla perché sarà lei la padrona di casa di questo programma lei sarà la mascotte e voi dovrete parlare con lei per essere inseriti in questo talent show è lei che comanda, posso andare al banno? cari amici, cari amici, vi aspettiamo per il nostro programma, tu sì che vali con tanti premi e siamo qua in onda con la TVSP va bene, va bene, va bene, la televisione, la televisione del futuro che cosa cerchi, che cerchi cantanti, di che cosa c'è bravo? diversi cantanti, ballerino, tutti quanti che sono artisti possono partecipare possono andare in onda e in la TV anche modelli, anche modelli e pure i modelli li aspettiamo in tanti che però il portamento è importante, il portamento, non camminare sulle ginocchia musicisti, musicisti, rumoristi, gabarettisti, anche satira vogliamo divertirsi tutti quanti insieme, vogliamo fare la festa, ballare insieme a voi una festa veramente tropicale, tropicale come Brasile come ti possono contattare cara Priscilla, i nostri amici? direttamente di Facebook, Priscilla Tigre, mi possono contattare e lasciare i nomi per fare le iscrizioni ma ne mi raccomando e poi tu lasciate i numeri di telefono a lei lei vi inserisce intanto in una chat di servizio, giusto? sì, sì una chat di servizio e poi lei vi dirà quando facciamo il primo casting a fine settembre in cui da lì prenderemo i talenti per poi fare le prime puntate di tu sì che vali, la vera novità, la vera novità al 100% dell'autunno 2018 vi aspettiamo, un bacio tropicale uniti vinceremo e un bacio siciliano ciao